Allora, Seghina, cos'è sta faccia da dissenteria? Allora, si può sapere che cacchio c'è? Niente, sono solo un pochino stanco, ecco tutto. Sì, sì. Come cacchio supponi che mi possa interessare? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Droghe liquide, droghe solide. Eh amico, com'è? Ci stai dentro? Jason, diciamolo, è un bravo ragazzo, ci sa fare, si farà in un certo senso, scusate, però ha bisogno di un supporto, ha bisogno di una voce maschia, una voce esperta, una voce che sappia modulare delle emozioni che vanno un po' oltre il suo infantilismo, lo voglio dire. Noi ci sbrozziamo, fagli vedere Stan! Tadà! È un extra try! È stata subito simbiosi con Stan, perché lui ha questo modo di comportarsi, di parlare proprio anche nella vita, spesso usciamo insieme e lui ha questa tendenza a dire «Ehi, tipo, che cacchio fai?» che subito mi ha conquistato, conquista anche le ragazze, spesso lo mando avanti perché lui fa breccia sulle ragazze, specialmente sulle ragazze scandinave, e io poi mi infilo di conseguenza e raccolgo le briciole. Sembra divertente! Ciao ragazzi, è tutto Oc? Io sono Arne, ora vi racconto la storia di un tipetto che conosco, cioè Terkel. Mi fai andare alla rampa dopo cena? No, Terkel, non stasera, ci dobbiamo alzare presto domani, quindi devi restare a casa. Beatrix e Leon non sarebbero stati male come i genitori, se solo fossero riusciti a andare un po' più d'accordo. Non stiamo discutendo, stiamo litigando, chiaro? No. Ah, non stiamo litigando? No. Sì? No. Sì? No. Sì? No. Sì? Sì! Sì! No. Lo so! Volevo solo d'altro dirvi che a me piace leccare la fiction. Ha ha ha! Arne, è un super figo! Arne, è un super figo! Arne, è un super figo! Ok, ne facciamo altre due in alternativa, solo un pelo più, suggeriva Faso, come un po' nell'originale, un po' più... i pezzi sono un po' più sussurratini, è un po' più... Arne, è un super figo! Il tipico coro danese. Wow, 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 cool! Allora, Bisio, sei pronto? No. 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 Azione! Sono a casa? Sì. Cioè, no, 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 scusate. No! Devi solo dire no! Eh no, scusa! No, 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 ma perché devo sempre dire no? Chi l'ha scritto sto copione? Bisio, riprenditi, ti va di fare questo per me? E anche per Terkel? Scusa, Edio. Ce la farai, vero? No. Perfetto, siamo con te! Fega ma che storia non ci sto dentro più da quando ho capito che sei molto fega. Tu hai un sapore che mi brucia nel cervello e guarda cosa hai fatto al mio cuoricione. Spero tu vorrai cagarmi almeno un poco e poi metterti con me, guardarmi, maledirmi ancora. Ora... Che cazzo di schifezza è? Io non lo trovo male. Si va molto prima a suonare il basso. Suonando il basso non ci sono tanti problemi di intonazione. Basta accordarlo. Sono disperato, è difficilissimo cantare. Chi è? Che cosa hai? Che cosa ho? Mi hai tirato un'orecchia! Diciamolo chiaramente. Questi ragazzi di Rocotanea, 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 Cesareo, insomma, bravi musicisti, non c'è niente da dire, ma esperienze di doppiaggio. Poca. Simpatici e tutto, però detto tra noi, anzi non vorrei che la cosa uscisse da questa telecamera, dopo tanti anni sullo stesso palco a suonare insieme, ritrovarseli anche in sala di doppiaggio, insomma, diventa anche un po' pesante. Terkel in grosse difficoltà. Sei tu, Terkel? No, cioè sì! Come mai chiami a quest'ora? Dov'è che sei? Nel bosco da solo e... Sei in una palude, non andare oltre l'ombelico e occhio ai piedi, non lasciarle in giro. Ma io ho paura! Va bene, vuol dire che hai un desiderio da esprimere, ma non dillo a nessuno, sennò ti cadono i denti. Ricordatelo, tesoro, e sta allegro? No, ma... Ciao, eh? Ma tu sei Claudio Bisio? No. Ma... un'intervista? No. Dai, scusa, un ottografo? No. Ma vai in tv? No! No. Lei è solo un pato! E ora ti pesta! E ora vi beccate anche una canzone! Vai, macchierista, che io ti seguo! E vai, pubblico, saluti! E ascoltate! Chiedi a me quando sei nei guai Chiedi aiuto e la melancia forse salverai OI! Stasi, buono! Stasi, buono! Da lontano, che figo non si può Calzoni di velluto a coste e cappelli lunghi Le donne vanno matte per uno come me Ballo con le tipe e le lascio mezze morte Ho fighe dappertutto io Tirano la giacca, gridano Sono così figo che non ci sto chiudendo